Sono venuta qui per onorare la memoria di Falcone e di Borsellino, sono qui in questo posto anche simbolico perché comunque ha il significato della rinascita, della vita, l'ulivo, dal quale mi dicono poi si produce l'olio, quindi significa vita. Ma anche perché onorare la memoria significa ricordare sempre che la lotta alla criminalità organizzata è una vera priorità e che lo dobbiamo ricordare tutti i giorni perché questa battaglia sia compiuta. Devo dire che sono qui per rappresentare il fatto che lo Stato c'è e lo Stato che però non può soltanto limitarsi a contrastare la criminalità, ma deve anche operare per mettere in moto il Paese attraverso questa città, questa regione, attraverso anche delle altre misure, come per esempio attivare l'occupazione, il lavoro, perché questo significa anche rendere liberi dal bisogno. Quindi io credo che sia molto importante ed ogni volta che si apre una scuola, si trova un posto di lavoro e si fa qualcosa per una cittadinanza attiva, questo è qualcosa simbolicamente, per così dire, vale molto di più o quasi vale. La scuola è stata sua, è una scuola, è una scuola, è una scuola, è un po' di più o niche, Grazie.